Bentornati a SOS Agrizzotv, buona settimana, ritroviamo il nostro amico Fausto Broggi, ciao Fausto. Buonasera. Ora noi l'ultima volta che avevamo fatto qui, ma perché avevamo preso due cassonetti a casa, sostanzialmente per parlare della polizia, ora siamo tornati qui però per un motivo preciso, come si chiama innanzitutto questa via che entra in via romana, dove da quanti giorni c'è questo materasso che vediamo qui? A memoria siamo due settimane, siamo buoni, facciamo 11 giorni, facciamogli un po' di sconto. Che è lasciato qui in questa posizione più o meno. Diciamo la mia indignazione non è tanto per il materasso che purtroppo capita e fa parte dell'arredo urbano, la mia indignazione sta nel fatto che ci sono, allora, bitone della carta, bidone dei vetri, bidone della spazzatura e bidone dell'umido. Quindi minimo in 15 giorni sono passati 1, 2, 3, 4 camion, sempre di Sei Toscana o di Asia, no perché io qui ho perso un po'. Sempre Sei Toscana. No perché qui tutti i giorni cambia qualcosa, quindi può darsi che non soggiornato. Poi passa lo spazzino, passa la motoscopa e, volevo dire, sta a noi cittadini segnalare il materasso. A me mi sembra assulto. Poi dopo ecco, non lo so, c'è la consigliera comunale che lei fa le battaglie contro il degrado. E chi dovrebbe farlo di mestiere cosa fa? La domanda mia è questa. Poi dopo... Quindi ognuno qui scarica il suo e se ne frega. E se ne frega, no, appunto, è giustamente quello che viene a ritirare il cartone. Lui dice, ma io ho da ritirare il cartone, quello che viene a ritirare le bottiglie e il vetro, ho da ritirare il vetro. Ma tutti, il materasso probabilmente ne è compito loro, allora è compito il cittadino. Quindi ogni cittadino qui, secondo me, tutti i giorni si deve inventare il segnalatore. Il segnalatore del materasso, il segnalatore che non viene fatta la pulizia corretta delle strade. Secondo me è assurdo, secondo me bisogna che ci siano, che ognuno faccia il proprio ruolo. Cioè, chi ha il dovere di fare la raccolta, anche se, ripeto, la maleducazione c'è. Infatti, dico, che città sta diventando? Perché da una parte è aumentata la maleducazione e questi episodi crescono di giorno in giorno. Dall'altra, una volta chiamavi il comune, magari chiamava lo spazzino, chiamava qualcuno AISA e ripuliva. Ora il problema è che è aumentata la maleducazione e non sai chi chiamare. Non sai chi chiamare perché anche la famosa segnalazione che fu fatta a questo punto, saranno 40 giorni, a 6 Toscana, che c'era un difetto. C'hanno altri problemi. C'hanno altri problemi, vabbè, ok. Allora il commissario. Ah, ecco, ora si farà i commissari. Però anche qui la spazzatura delle strade si è ridotta a una volta alla settimana invece che due. Lo spazzino, ripeto, per l'ennesima volta era tutti i giorni. Ora un giorno sì, un giorno no. O a volte non si vede perché anche qui scende buchi. Boh, io lo so. Secondo me è poco normale la situazione, però. Non è tanto normale. O comunque, secondo me, se vogliamo lanciare una sfida, la lanciamo una sfida. Quanti tempo gli vogliamo dare? Tre giorni? Tre giorni. Tre giorni? Allora, se fra tre giorni non è venuto nessuno... Perché la cosa si è un po' sparpagliata, quindi anche per fare bella figura qualcuno arriverà. Ah, allora sì. Però ci proviamo. Noi ci proviamo. Gli diamo tre giorni, va bene. Se no lo portiamo via io. Esatto, si fa via... Non lo aveva portato? Ma si porterà... Al tramarino. Al tramarino, sì. Va bene, lo portiamo, lo caricano in una macchina e lo andiamo noi. Poi, è chiaro che... Ti c'entra della macchina, sto caso. Ti c'entra? Sì, sì, c'ho una macchina van che in qualche maniera ci servirà. Ma lo pieghiamo? Sì, lo pieghiamo, ci sorganizziamo. Ma lo facciamo? Che sia una tantum, perché se no poi dopo io e te si diventa... No, no, io voglio fare... Ah, te vuoi fare giornalista, insomma. Sì, non voglio fare il paladino. Te vuoi fare il paladino? No, assolutamente. No, no, no. Non voglio rubare il lavoro a nessuno, neanche te, penso. Ognuno deve fare il suo. Ok. Io nel finale per un saluto a Beppe Marconi. Ah, a Beppe Marconi, va bene, ok. Gli lo manderei. Sì, glielo manderei. Lo facciamo portare lui. Eh, sì, esatto, ecco. Facciamo così. C'è un sacco di macchine. Fra tre giorni, viene anche Beppe Marconi. Va bene, ciao.